salve buonasera a tutti appuntamento con l'estrazione del giorno 15 e questa sera è uscito il 30 su palermo adesso vediamo se arrivano gli scoltrini 30 era il numero di palermo di questo ce n'è un altro che deve uscire su palermo per il momento pubblico questo scoltrino che poi nel programma avevamo il 3 col 7 anzi 30 col 70 scusato il 30 col 7 non mi ricordo più comunque se avete qualche scoltrino se io non ho controllato le altre previsioni perché stasera della verità non è che ho molta voglia niente il c'era il 30 da giocare su palermo è uscito stasera e adesso aspettiamo l'altro numero su palermo che uscirà entro la fine del mese io vi auguro una serata strepitosa bellissima sogni d'oro ciao e saluta mia mia suocera saluta grazie alla sera grazie alla fine